Parliamo di sicurezza Udine, alcuni casi recenti hanno scosso particolarmente l'opinione pubblica, cosa fare di concreto per favorirla in città? Continua collaborazione con la forza dell'ordine che svolga nel loro lavoro, mettendo a disposizione tutto ciò che è necessario, senza tali evitare i turnover, ma soprattutto applicare e attuare finalmente un progetto che vede gli immigrati o gli stranieri come, non dico come una risorsa, ma come un tema da affrontare seriamente, senza stereotipi, senza annunci, senza ronda e senza posti di blocco. Abbiamo visto a livello nazionale il ministro per favorire poi l'integrazione, a livello comunale questo è previsto e secondo lei serve, sarebbe necessario? Locale io credo che una delega ad hoc all'integrazione non serve perché gli immigrati sono una parte integrante della popolazione udinese, quindi vanno seguite da tutti gli assessorati, serve però una forma, visto che non è prevista nella legislazione italiana il diritto di voto agli immigrati, serve qualche forma di rappresentanza per favorire il senso di appartenenza a questa popolazione, al tessuto udinese. C'è chi si è stupito a livello di opposizione del suo risultato, ricordiamo che lei è stato il più votato tra le new entries, visto la sua provenienza egiziana. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto fiducia in me, dandomi il voto, perché lì è prevista la preferenza, non l'aiuto di quello o quell'altro, quindi evidentemente sono riusciti a superare il cognome, a valutare la persona su ciò che sono stati capaci di fare nell'anni. Io dico che causa il proprio male e pianga a se stesso, evidentemente certe persone fanno la critica perché non sono riusciti a raggiungere un risultato losunghiero per loro stessi, quindi se le prendono con coloro che non l'hanno votato, non con me. Poi aggiungo una cosa, la società italiana ottimamente valuta la persona sul cognome, è una cosa che detesto, perché per noi va bene Ballotelli quando si è a gol, ma se Ballotelli domani mattina suona di andare a fare politica verrà visto male. Abbiamo avuto anche Totorina che porta un cognome italiano, non so cosa vuol dire, il figlio dei bossi porta un cognome italiano e ha fatto tanti di quel casino, non dico altri esempi, quindi valutiamo la persona per quello che sono veramente, non per il loro cognome.